Trinus è uno dei grandi intellettuali, come hai appena detto, del periodo fascista, forse è l'unico a esprimere liberamente, senza paura durante il fascismo, la sua voce anarchica, perché sapeva veramente prendere il regime per i fondelli, usiamo un termine molto pulito, lui ha detto sempre, è vero, non sono stato mai antifascista, ma soprattutto non sono stato mai fascista, sapeva prendere pericolo Mussolini e su questo aveva una capacità, una fantasia straordinaria. Poeta, non si può definire dialettale, perché usa il dialetto romano, però per arrivare a vertici internazionali. La donna di Trinus, com'era questo rapporto con Rosa? Non sappiamo, è un mistero assoluto, non sappiamo di lei assolutamente nulla. Quando morì Trinus fu sfrattata e morì in un ospedale da sola, e quindi per me è molto importante riuscire a ridarle in qualche modo voce, il posto che le spetta di diritto, perché non avendo diritti l'hanno buttata fuori di casa. È una storia piuttosto triste. Sì, è una donna di cui nessuno sapeva nulla, non una bella donna, ma una grande forza, evidentemente con Trinus c'è stato un grande rapporto, non legalizzato, e quindi per lei con la morte di Trinus è finito tutto. Adesso le ridiamo in qualche modo voce. Io interpreto Giselda, che è una giovane ragazza, che per sua fortuna e per caso incontra Trinus e questo incontro praticamente le cambierà la vita per sempre. È un personaggio molto bello, completo da interpretare, perché lei nel corso della storia ha proprio un cambiamento, è come se si sbocciasse e questo lo deve soprattutto a Trinus. Come è stato lavorare con Michele Placido? È stato ed è ancora, perché stiamo ancora lavorando. molto stimolante, Michele è un grandissimo attore, quindi è bello imparare così, lavorandoci insieme a seretto contatto e devo dire che è anche divertente, perché è anche un uomo di spirito, quindi mi sono trovata molto bene. Il mio personaggio si chiama Arturo ed è un ragazzo che vive nella storia, una storia d'amore con Giselda, però in mezzo a questa storia d'amore c'è anche una bella storia di lotta nei confronti del fascismo, lui è uno che si oppone e quindi prende anche tante botte, purtroppo come capitava un tempo, e quindi è tutto un po' movimentato e dinamico, è bellissimo. Pasolini ha detto che lui ha forgiato in qualche modo la lingua. Sì, è vero, è vero, è vero, Pasolini era un ammiratore di Trinus, lui fa del dialetto romano, come dire, ne fa una lingua anche sociale, perché riesce a descrivere gli uomini attraverso gli animali, le famose poesie, l'omotis, la scimmia, eccetera, con un contenuto diverte, ma con un contenuto sociale molto molto forte.